Ancora una volta una festa della liberazione con la mascherina sul volto e a distanza quella di quest'anno, necessarie precauzioni che non hanno impedito di ricordare in maniera virtuale e in presenza i tanti italiani che si sono sacrificati per la libertà. Al cimitero monumentale di Torino la commemorazione ufficiale con la deposizione delle corone ai cippi alle lapidi dei caduti, alla presenza di una rappresentanza di amministratori locali e di associazioni cittadine. Presente anche il vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte, Mauro Salizioni, che ha ricordato come proprio i tempi dolorosi e complessi che stiamo attraversando fanno sì che il 25 aprile assuma un significato ancora più profondo. Questo 25 aprile è un particolare significato perché ci dà un altro senso della liberazione che è quello di poter essere in presenza. Ci stiamo, auguriamocelo, liberando dalla pandemia, dal virus che ci ha soggiogati in questi anni. È una liberazione anche questa e i due dati messi assieme fanno sì che la festa sia ancora più grande. La giornata di feste e di commemorazione è poi proseguita online con le testimonianze visive e multimediali proposte dall'Istituto per la Storia delle Resistenze della Società Contemporanea di Asti, in collaborazione con il Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte. Alle 15 il filmato di Nicoletta Fasano essere fiamme le altre donne partigiane dedicato alle donne astigiane che hanno partecipato da protagoniste alla lotta di liberazione. Alle 16, sempre sui canali social dell'ISRAT, la riflessione prima i nuclei armati, resistenza in pianura e stragi nazifasciste organizzato dall'Istituto della Resistenza di Parma. Per annullare le distanze e per offrire più occasioni di partecipazione, il calendario delle manifestazioni per la festa della liberazione promosse dal Polo del Novecento con il sostegno del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale proseguirà fino a giovedì 29 aprile. Tutte le informazioni e il programma completo Grazie a tutti.